Siamo con Mimmo Santoro per parlare di associazionismo, in particolare di quella che è l'associazione che tu hai fondato tanti anni fa e che adesso gestiscono nuove leve, diciamo così. E in questo ultimo anno qual è il bilancio, quali sono state le attività, qual è il futuro di questa associazione? Allora intanto grazie dell'ospitalità Angela, come sempre molto molto gentile. Dunque l'associazionismo come sai è stato per me la mia vita, in particolar modo questa associazione che è l'ultima nata da lunghi percorsi è un'associazione che oggi sta dando sinceramente grossissimi risultati. In particolar modo a circa un anno ho lasciato la presidenza ed è stato deciso da tutti i soci all'unanimità di eleggere Enrico Maria Santoro, che è un caso che sia mio figlio e per me naturalmente è un onore. I ragazzi che insieme a Enrico stanno organizzando, c'è anche la vicepresidente Simona Lima, oggi avvocata, per cui voglio dire siamo di fronte anche dei ragazzi che stanno crescendo e crescono nella giusta direzione. Fare un resoconto di un anno di attività è purtroppo legato anche ad un momento difficile che nonostante tutto l'associazione ha affrontato. Cioè noi siamo usciti fuori da una chiusura totale del mondo sociale, nonostante tutto l'associazione ha fatto degli eventi come le edizioni dei giochi senza frontieri, di cui parliamo anche fra un po', e poi ha anche fatto dei laboratori, ha partecipato alla creazione di un murale, insomma ha fatto tantissime cose, sempre in una direzione che è quella sociale, ovvero creare dei presupposti di positività nella nostra società. La nostra comunità Mimmo si presta a queste attività nel sociale, risponde positivamente anche in forma di associazionismo proprio e di disponibilità a lavorare nel sociale? Sono due aspetti diversi. Quello di lavorare nel sociale è un po' difficile perché c'è bisogno di impegno, non tutti hanno l'impegno, ha possibilità di dare impegno, attenzione. Mentre la voglia di partecipare è molto diffusa. Noi diciamo sempre una cosa che per noi diventa fondamentale, c'è un mondo che attende, significa che c'è gente, persone che attendono che qualcuno faccia. Ecco, il terzo settore al quale noi oggi apparteniamo è fondamentale che faccia. Sono quelli che, e sottolineo sempre questo, sono quei fattori di protezione di una società, ovvero il nostro compito è quello di fare una serie di iniziative sociali, che sono giochi, che cultura, che prevenzione delle dipendenze, che laboratorio creativo per i bambini e quant'altro, che mirano a creare una positività, che diventano fattori di protezione, ovvero riferimenti per una società nel positivo. Per quanto riguarda le associazioni in generale sul territorio, tra le varie associazioni che insistono ad Albanella, quindi che sono nati ad Albanella, c'è collaborazione? Personalmente, devo dire di sì rispetto alla collaborazione con realtà come la panchina. Ho l'onore di aver contribuito dieci anni fa alla realizzazione di quel primo evento con la Presidente Emilia Verderame, una giornata per la vita e per Vito, che quest'anno arriva appunto al decimo anno, e continua questa collaborazione. Quest'anno anche, ancora una volta all'onore, ma proprio perché era il decennale, Emilia mi ci ha voluto anche, a presentare la manifestazione. Altre realtà del territorio, sinceramente, molto spesso ci ritroviamo delle realtà un po' chiuse su se stesse, con grandi difficoltà spesso ad aprire gli orizzonti, cioè di questa collaborazione. E la verità è che noi dovremmo avere tutti insieme, un unico obiettivo, che è quello di dare piacevolezza alla vita di tutti coloro che vivono sul nostro territorio. E veniamo agli eventi che hai accennato, quindi le varie attività che organizza durante l'anno la tua associazione. E la prossima sarà quella dei giochi senza frontiere. A tale proposito, magari lanciamo un attimo il saluto che hanno fatto i ragazzi. Sì, guarda, c'è adesso un video che adesso parte e ci sono i due presentatori di quest'anno, c'è Alessia Manzo e Gabriele Cammarano. Gabriele poi è molto, molto ironico, ma poi c'è anche la bellezza di Alessia. A voi. Ciao ascoltatori di Voce di Strada, siamo i nuovi presentatori dei giochi senza frontiere di Matinella. Alessia Manzo. Gabriele Cammarano. E da come avete potuto dedurre a questa breve presentazione, quest'anno ad annunciare i giochi saremo io e Alessia appunto. Quindi avrete una bella presenza, insomma, tra gli spalti della piazza di Matinella. Quindi mi raccomando, non mancate e non perdete di nessuna novità di quest'anno. E da come potete dedurre, quest'anno ci saranno tantissime novità. La prima è fra tutte che, a proposito di un presentatore, ce ne saranno due. Quindi vi aspettiamo in tantissimi per divertirci insieme. Non mancate. Ciao. Ecco, i giochi senza frontiere sono arrivati alla 43esima edizione. Fra l'altro è citato proprio nel libro che è stata una realtà della nostra comunità, quella di Matinella, una storia di un paese scritto a mille mani, dove viene proprio messa una petra miliare e di quell'evento accaduto già tantissimi anni fa. Poi già da tempo io l'avevo ripreso e oggi è un gruppo di giovani. In particolar modo c'è proprio Enrico che è diventato storico, insieme a Sofia Lima, che è diventato uno storico di questa attività per i giovani e naturalmente insieme a Simona che è diventata forte. Ma a quest'anno devi pensare, ci sono tantissimi collaboratori, oltre a Sofia, c'è Giada Urti, anche lei è una socia, poi ci sta Elmerinda Roscinito e poi abbiamo ancora Eva Michela Lima che è una nuova iscritta, poi ci sono dei collaboratori volontari, Giovanni Croce, poi ci sta Gerardo, Alessandro, insomma sono veramente tanti. Perché un evento del genere è un evento atteso. C'è una comunità di bambini e ex bambini che attendono l'appuntamento, che è l'appuntamento dei giochi senza frontiere, per stare insieme. Sono cinque giorni, iniziamo il 19 di luglio in Piazza Marti del Lavoro alla frazione Martinelli, saremo lì dal 19 al 23. Lunedì, intanto in questi giorni ecco una cosa importante, oggi, domani e fino a sabato ci sono ancora le iscrizioni che si possono effettuare dalle 19 in poi in Piazza Sant'Anna, sempre a Martinella. Lunedì avremo la consegna delle magliette e verranno sorteggiate le squadre. Dato che i concorrenti sono sempre oltre 200, è ovvio che avremo grandi difficoltà a far scegliere le persone a fare la squadra, viene sorteggiato gruppo seniors e gruppi juniors. Quindi sono due fasi di età totalmente diverse perché gli iscritti vanno dai 6 ai 18 anni. E quindi che dire, in bocca al lupo a tutte le squadre? Certo, in bocca al lupo a tutte le squadre, ragazzi, soprattutto abbiamo l'obbligo di divertirci. Da Mimmo Santoro a Domaiora Semper.